Una dozzina di anni fa, quando abbiamo acquistato questi terreni, non c'era nessuna struttura abitabile, c'erano solo ruderi o stalle con, fra l'altro, il tetto in amianto da demolire. E avevo già, nonostante che non sapevo nulla di bioedilizia, di bioarchitettura, sentivo la necessità di ricostruire questo luogo in questo modo, di creare qui appunto anche, per quanto riguarda le strutture, il cambiamento che volevo vedere nel mondo. Inizialmente feci un corso al Centro per l'Energia e l'Ambiente in Germania, dovevi un'infarinatura grazie a Paea e Paolo Ermani. Poi nel 2012 Andrea Gilardi mi chiese di fare una cena insieme, onestamente non ricordo neanche il motivo, e poi mi invitò a vedere la loro casa di paglia realizzata nelle Marche. Poi in realtà per due o tre anni non ci siamo più sentiti, fino a che ho iniziato la ristrutturazione dell'agriturismo, di quello che è la struttura in sasso, la prima struttura che ha avuto la fattoria dell'autosufficienza. Mentre facevamo questa ristrutturazione avevamo terminato il grezzo, c'era l'idea di fare un cammino nella sala principale, però qualcuno mi disse che effettivamente il cammino avrebbe portato via il calore. E così mi venne in mente la stube che avevo visto in Germania, le Uzz, e mi venne in mente che appunto Andrea e Francesco costruivano le stube, le stufe a massa termica. Era anche un periodo in cui avevo cambiato quattro architetti uno dopo l'altro, perché avevo una grossa difficoltà a comunicare agli architetti quello che volevo realizzare, quella che era la mia idea di come dovrebbe essere costruito il mondo. Ecco che quando ho conosciuto Andrea e Francesco ho trovato due persone che la pensavano esattamente come me, non c'era nessuna difficoltà a spiegargli quello che volevo fare, perché è esattamente il modo in cui lavorano loro e ci troviamo da questo punto di vista in perfetta sintonia. Oltre a questo una cosa che mi ha colpito in particolare di Andrea e Francesca è che non solo progettano le cose, non solo progettano le strutture, le abitazioni in bioarchitettura, ma poi le realizzano anche. Cioè quindi non possono proporre cose irrealizzabili perché poi le devono fare loro. Questo è molto bello e ha assolutamente tanti vantaggi. Detto ciò, quindi... Svantaggi, per noi un po' di svantaggi però. Detto ciò, grazie Andrea e Francesca per aver accettato il nostro invito. Io vi lascio la parola e poi magari se rimane un po' di spazio alla fine, se volete fare domande sulla chat di Zoom, vi inoltre le domande degli spettatori. Perfetto. Allora direi che la presentazione di Francesca non è eccellente di più, perché ha condensato proprio l'essenza del nostro rapporto che va anche all'oltre l'architettura, il costruire, quello che ha elencato. Volevo ringraziare ovviamente MacroLibrarsi e voi tutti i relatori che ho avuto piacere ieri di sentire alcuni interventi davvero fantastici. Poi ovviamente tutti gli ascoltatori che ci sono. Noi siamo Andrea e Francesca e ci ha presentato benissimo Francesco. Lavoriamo come Natural Builders, che vuol dire costruttori naturali, e come costruttori stufa di accumulo, come appena elencato. Il tema del giorno è un tema bellissimo, che in 40 minuti sarà molto, per me sarà difficilissimo spiegarvi bene, però è il tema del momento, perché è praticamente il rapporto tra l'architettura naturale e l'autosufficienza. Sono due parole entrambe molto utilizzate anche in maniera impropria ultimamente. E io ho trovato ieri un grosso riscontro sul parallelismo, trovo un grosso parallelismo sull'intervento che ha fatto Vandana Shiva ieri. Lei parlava soprattutto della situazione dell'agricoltura, sul praticamente il cibo, che è un cibo che è completamente devastato dalle multinazionali che controllano i semi. L'agricoltura significa sostentamente cibo e questo controllo che schiaccia le piccole imprese contadine, trovo un grosso e importante parallelismo sull'architettura. L'architettura spesso non è capita, perché infatti c'è la parola edilizia che la sostituisce nella costruzione corrente. In realtà edilizia è una bruttissima parola, perché edilizia è sinonimo più che altro di speculazione sull'architettura. E il parallelismo appunto con l'agricoltura è veramente interessante, perché quella circolarità di cui parlava benissimo ieri Shiva è una circolarità che è spezzata. Lo stesso è avvenuto nell'architettura, perché l'architettura ha trovato dal dopoguerra in poi c'è stato il periodo della speculazione post bellica, la casa per tutti, costruiamo questi alveari, quartieri dormitori, alveari non è una bella parola, perché noi alveari piace come parola, però non utilizzato nel contesto giusto. Questi quartieri dormitorio sono stati creati in maniera scadente, in maniera del tutto incurante della salute umana, ma soprattutto anche di chi li costruiva. Ci sono interi quartieri, interi abitazioni, senza nemmeno andare nelle città, anche nelle campagne sono state completamente devastate dagli anni 50, gli anni 60, 70 e poi successivamente anche, da materiali del tutto scadenti, senza nessun rapporto con il contesto, con il luogo e con la salute degli abitanti che vivono e anche di chi li aveva costruite. Per cui l'architettura non è solo un fatto estetico, un fatto di potere dell'uomo verso un atto autoreferenziale. Una volta si costruiva l'architetto, lavorava solo per i nobili o lavorava solo per grandi committenti. No, l'architettura è naturale, è l'esatto opposto, è riportare come l'agricoltura naturale l'attività appunto del costruire nel giusto rapporto con la natura, in sinergia con la natura. Cioè l'uomo non è più al centro di tutto, ma l'uomo diventa parte di un processo circolare a cui deve appartenere e dove la salute è estremamente importante. Allora, io adesso, senza andare in teoricismi che magari distraggono la domenica mattina, poi dopo questa bellissima lezione di yoga che ho tentato di partecipare veramente, ma forse mi ha rilassato troppo e stiamo andando più che nell'architettura naturale, nella slow architecture, cioè nell'architettura lenta, un po' come slow food e fast food. Quindi l'architettura naturale che cos'è? Prende spunto, deve innanzitutto essere un'architettura che dove c'è la salute dell'uomo al centro. Basta eternit, pensi solo alla parola eternit. L'eternit era stato costruito come il materiale appunto eterno, no? Poi invece ti porta eternamente alla tomba, quindi esattamente concetti e pubblicizzazioni del tempo completamente fuorbianchi. Quindi la salute nell'architettura naturale è fondamentale, è un po' come riportare in agricoltura i semi giusti o le, diciamo, le giuste pratiche. Qual è il nesso? Quindi l'architettura naturale, io ho cercato di darmi una sintesi mentale, per me l'architettura naturale, per noi, per me Francesca, è, diciamo, oltre a mettere l'uomo e l'ambiente al suo posto, e lavorando sinergicamente con la natura, l'architettura naturale è basata sul rispetto. Tengo a precisare che è basata su quattro rispetti fondamentali. Il primo rispetto sono le risorse ambientali e tutti lo sappiamo, cioè c'è un aspetto ecologico e quello è in dubbio, perché nel momento in cui ci troviamo adesso il rispetto della natura è una cosa abbastanza compresa da tutti, ok? Quello che è meno compreso è l'aspetto sulla salute. L'architettura naturale, nel suo involucro protettivo e nelle sue, diciamo, funzioni, ha un aspetto di cura, un aspetto di medicina preventiva. Vivere in un ambiente, quanti di noi hanno sperimentato, sperimentano tuttora di vivere in case piene di muffe, muffe grigie, marroni, di ogni genere sorta, oppure di rientrare a casa dopo la sera, dopo l'inverno, che la casa è chiusa e si sente proprio quell'odore stagnante, persone hanno il mal di test, si sentono i piedi, le gambe gelide, gonfie. Insomma, ci sono tanti sintomi che uno dice, vabbè, è giusto un'abitazione, ci passo giusto il tempo per dormire, che non sono, non è poco, perché magari quelle otto ore che tu rimani in casa, cioè gente che ci rimane anche molte più ore, ci lavora anche specialmente ultimamente, che cosa succede? Si interviene, si tramettono poi nel tempo ai propri familiari anche tutte quelle sequenziali malattie che magari non sono schedate, non sono direttamente riconducibili a una patologia, però sicuramente una casa naturale, questi fenomeni e questi... Allora, io lo dico non per, diciamo, raccontare una storia che non conosco. Noi questa storia la conosciamo perché abbiamo costruito, come nell'introduzione diceva Francesco, una casa totalmente ecologica, costruita 11 anni fa. La viviamo, la viviamo anche saltuariamente, che è la situazione peggiore, perché viverla saltuariamente la casa viene sollecitata ancora di più a livello termico. E vediamo, possiamo dire veramente con grande orgoglio e anche fortuna, perché non siamo in molti unità a poter vivere in case del genere, che l'aspetto appunto del benessere abitativo è fondamentale. Cioè, noi viviamo in situazioni opposte, perché viviamo sia in Umbria che nelle Marche alternativamente. Una è una casa anni Ottanta, l'altra è appunto questa autocostruita e ci rendiamo conto, abbiamo proprio schedato tutte le differenze, abbiamo capito fino in fondo di che cosa stiamo parlando. E vi garantisco che il benessere abitativo è una cosa, è il futuro, è una cosa da non sottovalutare assolutamente ed è quel contatto, è quel primo passo verso l'autosufficienza abitativa di cui tutti avremo bisogno. Noi, sempre per tornare al concetto del rispetto, abbiamo visto appunto ecologie e risorse ambientali, ma poi il rispetto è anche un rispetto basato sul rispetto del contesto, del paesaggio. Noi quante case UFO completamente ricontestualizzate, oppure interventi anche cittadini completamente basati solo sull'aspetto visivo, acciaio-cemento, che non sono integrati per niente con il contesto. Questo è un, specialmente in Italia, è un affronto al paesaggio che stiamo pagando, stiamo pagando notevolmente. Un esempio pratico, adesso non voglio parlare in architettese, ma l'esempio pratico è la fattoria. La fattoria, se noi avessimo fatto un intervento non sensibile e non rapportato con l'ambiente, ma non a livello estetico, rapportato con l'ambiente nelle sue dinamiche. Il progetto della fattoria è un progetto anche di architettura e permacultura integrati, cioè due settori che non sono settori, ma sono anche modalità di vivere, che sono perfettamente integrate. Cioè il muretto a secco o il terrazzamento che lambisce la sala Iona, oppure tutte varie regimazioni delle acque provenienti dai tetti, non sono un fatto estetico, lo diventano un fatto estetico, perché fanno rientrare quell'armonia di forze proprio della natura in un progetto architettonico per le persone e per anche gli animali, stiamo parlando di una fattoria. Quindi c'è la componente del contesto. Un'altra componente che entriamo veramente nella difficoltà dell'architettura naturale, ma nel suo gesto più alto e più elevato, che è quello del bello. Il bello inteso come il recupero dell'artigianato nei nostri progetti, nei progetti che vediamo anche di nostri colleghi che tendono più a dare lavoro a artigiani dotati, anche persone che usano le mani, vediamo che l'artigianato è l'antitesi dell'arte. L'arte è molto elevata, è quasi inarrivabile da nessuno, però l'artigianato è fondamentale. In Italia l'artigianato è stato spezzato, un po' come ritornando all'intervento bellissimo di Vandana Shiva ieri. L'artigiano è come piccole realtà contadine. Sono stati completamente spezzati quando in Italia, dal rinascimento, l'artigiano era la parte integrante di tutto quello che poi adesso è bello, è tutelato e tra l'altro gestito dalle banche, perché molti, diciamo, molti investimenti e molte cose in Italia sono, diciamo, relative appunto alle bellezze artistiche e architettoniche, sono in mano alle banche. Io non voglio entrare in nessuna critica, noi siamo dei piccoli progettisti, vogliamo rimanere tali, siamo dei piccoli costruttori, vogliamo rimanere tali e quindi, più che parlare di grandi sistemi che magari sono più consoni a persone che parlano, appunto, in chiave teorica, noi siamo molto pratici. Questa praticità, infatti, mi porterà a farvi vedere degli esempi. Un'ultima cosa, sempre in chiave teorica, prima di vedere degli esempi, è l'aspetto ludico all'architettura, come abbiamo detto, è un riparo, quindi è un, diciamo, una difesa, all'inizio era una difesa della natura, adesso ci deve diventare un'integrazione. Poi abbiamo detto l'architettura ha il parallelo con l'agricoltura per tutte le fasi evolutive che ha avuto negli ultimi 50 anni e per tornare al discorso dell'autosufficienza e architettura naturale, il concetto è lo stesso dell'agricoltura. Bisogna, il mio messaggio che cerchiamo di dare, il nostro messaggio, il mio di Francesca, che cerchiamo di dare da anni è lavoriamo locale, lavoriamo in sinergia con i piccoli artigiani, creiamo nuove tecniche costruttive, perché a noi ci prendono spesso per architetti che guardano solo al passato perché riscoprono vecchie tecniche. Ah, voi se avete riscoperto vecchie tecniche. Non è così. Noi abbiamo, diciamo, riscoperto vecchie tecniche per poi adattarle a, diciamo, situazioni attuali. Attuali. Nelle vecchie tecniche nemmeno era concepito il concetto di casa a consumo zero, che abbia 23 kilowatt al metro quadrato anno, concetti impensabili in una casa di pietra che ne consuma 100 volte di più, anche 200 volte di più. Quindi l'importante è l'aspetto appunto di riconciliazione, di ricucitura, come nella società contadina delle vecchie realtà, per poi unirle e fare una nebulosa, come diceva Vandana, di micro realtà interconnesse che possono proteggere le conoscenze, proteggere le... Quello è questo, questa, diciamo, questo processo è molto ben applicato in fattoria. C'è un altro aspetto, un altro aspetto che è sempre legato all'ultima considerazione sul rispetto, che è l'aspetto ludico, sociale, dell'incontrarsi, del divertimento, un aspetto anche spirituale o un aspetto di sogno, semplicemente di sogno. Io, quando Francesco prima ci ha introdotto, ero molto, diciamo, meravigliato perché noi adesso ci troviamo in un altro luogo, in realtà vedevo un'azione pratica, cioè una lezione di yoga, in una sala che abbiamo progettato noi, insieme a Francesco, ovviamente, e dove, diciamo, avveniva in quella sala, che è una sala polifunzionale, sono avvenuti sia diversi dibattiti, questi giorni vengono, è proprio veramente polifunzionale, avvengono tante attività. E questa è la magia, appunto, dell'architettura, perché l'architettura è anche incontro, sogno, è anche manifestazione di una certa spiritualità che ognuno vive in maniera diversa, in maniera... però c'è sempre questo, diciamo, senso del toccare l'infinito che è raggiungibile, che è un po' un altro parallelismo, che, diciamo, è molto difficile da toccare, però spesso se uno si impegna nel piccolo, nel grande che sia, ci possono essere tentativi o riflessi. La sala yoga è come le aziende, come le fattorie contadine di cui si parlava nell'intervento di ieri, sono dei fari. La sala yoga è pensata come, diciamo, un faro per arrivare anche a toccare questa spiritualità che è mancante nella società come è impostata adesso, che è basata sulla paura, sul vieto, sull'incasellamento e soprattutto è basata sullo spezzare l'autodeterminazione dell'individuo e è basata sulla paura, basata molto sulla paura, che è un aspetto che è divisivo per le persone. L'architettura naturale è l'esatto opposto. Noi cerchiamo di portare condivisione, condivisione è una parola iper abusata oggi. Condivisione secondo me tocca più le corde dell'incontro, della spiritualità e del sogno. Andiamo agli aspetti, ad alcuni esempi. Allora, Francesca? No, prima di tutto magari anche il fatto di come noi le progettiamo e le intendiamo le case. Noi naturalmente partiamo, siamo uno studio di architettura e poi ci occupiamo appunto anche di natural building e oltre a questo Andrea è anche fumista. Quindi nei nostri progetti mettiamo in pratica direttamente noi stessi, le nostre mani, ci mettiamo proprio con le mani in pasta e realizziamo totalmente la struttura, diciamo, dalla struttura le parti della paia e degli intonaci. e poi realizziamo anche, Andrea come fumista, realizziamo e progettiamo e realizziamo delle stufe d'accumula che sono il centro, il centro poi, normalmente le posizioniamo al centro dei nostri progetti e riscaldano naturalmente tutto l'ambiente. Quindi partiamo innanzitutto che l'involucro dei nostri progetti è fondamentale. noi normalmente lavoriamo con paia e canapa, quindi strutture in legno coibentate con paia e canapa e per rendere un edificio autosufficiente il più possibile bisogna partire prima di tutto appunto da avere un buon involucro, un involucro che ti tenga naturalmente caldo durante l'inverno e fresco durante l'estate così da poter avere il massimo del risparmio nelle risorse, insomma, che servono poi per scaldarlo, per raffrescarlo. Un attimo, la paia e canapa sembra un discorso un po' riduttivo, dice questi fanno solo paia e canapa, sono abbastanza limitante come cosa. In realtà paia e canapa è un processo molto lungo dove ci lavoriamo da circa 23 anni sull'involucro. L'involucro, appunto, la casa naturale è molto basata su questo concetto, cioè dell'involucro, che è la protezione, che è il filtro tra l'abitante e il mondo naturale esterno. Quindi quest'involucro, la domanda è come starlo, come adattarlo. Ovviamente la risposta è che ogni architettura è diversa da luogo, localizzata da luogo in luogo diverso, quindi l'involucro tenderà a cambiare. Se ne facciamo un involucro a Marina di Ragusa, non sarà certo lo stesso involucro che faremo a Orti 6 sulle Dolomiti. Quindi è ovvio, oppure una casa al polo nord non sarà uguale a una casa al polo sud, no scherzo, all'equatore. Per cui lavorare sull'involucro significa rielaborare ogni volta il progetto. Cioè, molti ci chiedono il prestampato, cioè come se noi facessimo case prefabbricate. La prefabbricazione per noi non esiste, esiste molto limitata. La prefabbricazione più alta che ha raggiunto l'uomo sono i mattoni. I mattoni sono dei moduli prefabbricati che sono talmente, diciamo, piccoli e flessibili che ti possono costruire intere città. E così per noi anche i mattoni di paia potrebbero essere. Però ecco, il progettare a livello prefabbricato interamente una casa lo fanno in molti, lo fanno apparentemente per motivi economici e per motivi di rapidità. In realtà non è questo. Il problema è che poi non sono adattabili al luogo specifico. Quindi in costruzione vanno completamente poi adattati. Dice, vabbè, uno lo progetta prima con l'adattamento al luogo specifico. Non è così. Anche Francesco, nella sua esperienza con noi, siamo cresciuti insieme, pur essendo anagraficamente diversi, di età diversa. Dicevo, la specificità del luogo anche in fase costruttiva fa operare dei cambiamenti. Caso specifico, adesso io mi è venuta in mente la sala yoga dove abbiamo fatto tutti questa stupenda lezione di yoga stamattina. C'è un aneddoto con Francesco che mi piace molto. Lui un giorno venne mentre costruiamo la parete che vedete dietro Francesco adesso. Non è una parete, nemmeno una porta. È praticamente un sistema di riscaldamento che tu attraversi. Bravo Francesco, se ci apri la porta. E c'è un aneddoto molto bello. Francesco, se vedete, lui adesso è entrato, adesso non è dentro, non ha aperto semplicemente una porta, è dentro una stufa d'accumulo. C'è un sistema di riscaldamento che riscalda tutta la sala yoga. Che cos'è? È un cammino per molti, molti lo chiamano cammino. In realtà è una stufa che ha un giro dei fumi e gira tutto, gira per 13 metri la stufa quella lì. Praticamente scalda tutto l'ambiente. L'aneddoto bello è questo. Lì ci sono due, se avete visto, ci sono due porte. Una è a tutto sesto e l'altra è un po' più stondata. L'idea originaria era così, se vedete le mie mani, la porta dietro, era pensata diciamo in forma gotica, perché era come le mani di una persona che prega. Un giorno venne Francesco, lui e la sua famiglia sono molto alti, specialmente il fratello più piccolo, era molto preoccupato perché diceva ma qui battiamo la testa, che ci saranno problemi, ci saranno... E allora noi mentre lo costruiamo, considerate che quella parete non è una paretina dolce, tenera, che si taglia come il burro. È fatta tutta di refrattari pesanti e per tagliarli ci vuole, diciamo, una giornata intera di polvere e sacrifici. Allora venne lui e lui mi disse guarda Andrea, bisogna cambiarla. Allora, l'architettura naturale è anche cambiamento. Io ero molto, molto perplesso perché qui roviniamo tutto e soprattutto è una fatica incredibile. In realtà poi mi sono reso conto che Francesco, consciamente o inconsciamente, insieme a noi, stava andando oltre la prefabbricazione, cioè stava progettando mentre si faceva. È un po' come l'agricoltura. L'agricoltura non è precostituita. Qui facciamo terrazze, qui facciamo questo, qui facciamo quello. È anche un processo costruttivo di dialogo che avviene capendo gli simoli che ti vengono dall'ambiente. Ecco, lui lì in quel momento mi stava dicendo va bene, le mani conserte verso l'infinito a chi entra. Chi invece già sta dentro deve essere protetto. Quindi c'è una forma più arcuata e meno acuta, meno verso l'interno. E secondo me questo adattamento ha portato, oltre che a un sistema termico molto efficiente, anche a un miglioramento nella comunicazione. La sala è molto apprezzata da tante persone. A noi ci hanno scritto e fatto anche tanti complimenti, persone esperte proprio sulla linguistica, sul linguaggio dell'architettura. Quindi quest'aneddoto fa capire che il work in progress e la non pianificazione totalitaria, aprioristica, che poi ha creato città-modello, che modello non sono, perché la vita è sempre cambiamento costante. Questo è un esempio molto pratico. L'architettura... Fai vedere un po' gli esempi. Noi abbiamo circa un 14-15 mila fotografie negli ultimi 3-4 anni di cantieri vari, spesso è molto difficile, diciamo, elencare un po' tutte le cose. Comunque ecco, il discorso... Fai vedere un attimo che trova a condividere. Allora, l'autosufficienza per noi in architettura naturale parte dal concetto del fuoco, del fuoco interno alla casa, che oltre a essere un significato simbolico del, diciamo, del focolare domestico, è anche, diciamo, un tipo di calore e irraggiamento che è molto superiore al calore e irraggiamento del riscaldamento a pavimento, perché è un irraggiamento variante in tutte le direzioni. Allora, noi facciamo molte case di ogni genere sorta, ma soprattutto per case monofamiliari. Le abbiamo fatte ultimamente anche in contesto urbano, quindi non è solo legato all'aspetto della campagna o la classica casa colonica. No, adesso stiamo facendo anche, costruendo case che sono, come vedete nelle immagini, sono case di legno, paglia, poi sono di calce canapa, di terra, sono di tutti i materiali, di canne di bambù, di, diciamo, di tutte tecniche di natural building che vengono poi applicate in tutte le varie fasi. Noi partiamo, appunto, dalla struttura primaria e legno. Legno può essere naturale o lamellare a secondo del grado ecologico che uno vuole raggiungere. Poi dopo ci spingiamo nella costruzione generale e facciamo, appunto, proprio perché non siamo persone che fanno prefabbricazione, sposiamo a ogni, diciamo, involucro termico, lo calidiamo specifico per ogni situazione. In questo caso, per esempio, questa è una casa appunto realizzata con struttura in legno. Poi abbiamo realizzato una controstruttura di legno leggera che praticamente sostiene tutta la paia con la quale tiene la paia che è l'involucro principale della coibentazione. Molti ci dicono, ma... Anche nel tetto. Sì, le domande più spontanee e immediate sono dicono, eh, ma ci vuole più tempo. Non è affatto vero. Dipende molto dal, diciamo, dall'organizzazione generale del cantiere e da tante cose. Comunque a livello di tempistica, sempre una casa così, che è oltre 200 metri quadrati, ci abbiamo messo 15 giorni per fare l'intelagliatura, l'impagliatura. Quindi non sono tempi, diciamo, geologici. Sono tempi, poi, dovuti... Noi facciamo architettura slow architecture, quindi questo non vuol dire che rallentiamo il processo, ma che il processo lo facciamo, appunto, con le tempistiche anche della persona che ci vive, che stesso deve digerire, deve capire bene la fase costruttiva, che cosa sta facendo, anche per avere, appunto, la capacità di metabolizzare il progetto, da portare le modifiche ed arrivare a un'armonia, è una sintesi tra le volontà del cliente e le volontà progettuali che si fondano insieme. Certo. Poi, naturalmente, questa è la parte interna, diciamo sempre... Questa è la incostruzione. Sì, è stata incostruzione, ancora a livello del montaggio della paia. Senza partizioni, senza niente, e poi ovviamente qui ci sono tre camere, due bagni, c'è la stufa che è stata costruita col satellite qua in mezzo. Dopodiché, noi naturalmente facciamo, chiudiamo l'involucro della paia con, in questo caso, abbiamo fatto con la calce canapa. Sì. Che praticamente è un... diciamo che usiamo la calce canapa, è una tecnica che secondo noi è molto valida, la combinazione tra la paia e la calce canapa. Perché, prima di tutto, naturalmente dà una protezione immediata alla paia, la rende protetta appunto dal fuoco, perché molte persone vedevano, infatti, prima che dicevano, vedono la paia e subito la prima cosa che si versa è il fuoco e l'incendio. Allora, tutti ci dicono, ma perché mettere un altro isolante su un isolante? Cioè la calce canapa che è già un isolante, è un isolante un po' di grado inferiore, però è sempre un isolante sopra un isolante. Allora, noi sono tanti anni che facciamo case di paia, abbiamo sperimentato un po' tutte le tecniche, dalla tecnica Greb alle tecniche ordinarie che vanno con la terra cruda e la calce direttamente sulla paia. Allora, questa è un'evoluzione, un'evoluzione perché porta queste case ad un futuro certo, nel senso che una volta incapsulate in un sistema del genere, hanno una risposta al tempo, alle ingiurie del tempo, che è notevolmente più alta, resistenza al fuoco notevolmente più alta, resistenza termica molto più alta, un grado acustico superiore, hanno tantissimi vantaggi. La calce e canapa combinata insieme scatena una reazione che è molto nuova, nel senso che non è... la calce e canapa combinata non è una tecnica antica, una tecnica ipermoderna perché non ci sono risultati storici dove c'è l'applicazione di questi due materiali. Quindi abbiamo pensato di sviluppare e mandare, diciamo, sicuramente migliorare la tecnica delle case in paia con questa metodologia che non è sempre uguale per tutte le case, cambiano spessori, cambiano densità tra... noi le modifichiamo e moduliamo sempre tra la calce e la canapa e tra, diciamo, lo spessore della paia, lo spessore del... quindi ogni casa, ogni progetto che noi facciamo lo miglioriamo sempre e lo contestualizziamo. Infatti quando mi chiedono ma qual è il vostro più bel progetto che avete? Adesso perché c'è Francesco dico l'ha fatto di autosufficienza, ma in realtà il progetto migliore che noi facciamo è il prossimo, cioè è il futuro, e il prossimo progetto che faremo lo faremo sicuramente migliore di quello che abbiamo fatto precedentemente. Questa è un po' la nostra filosofia. Poi ecco, questo è l'involucro di calce e canapa, l'abbiamo usato spesso, siamo al centro Italia adesso, quindi siamo in Toscana, quindi è molto valido in queste zone, nel centro Italia va benissimo, anche in altre parti d'Italia, però magari facendo una casa in un contesto diverso, magari spostata a sud, si può valutare una tecnica diversa, ecco, non è che ci soffermiamo solamente su un tipo di... L'importante è proprio trovare l'involucro giusto per il contesto giusto, il contesto climatico, appunto se uno, come diceva Andrea all'inizio, fa una casa in Sicilia, naturalmente ha delle problematiche diverse rispetto a una del nord, e anche per esempio il sistema di riscaldamento, questo è sempre il primo piano della casa, ecco, in questa casa per esempio noi abbiamo realizzato una stufa ad accumulo, che è fatta sempre con appunto materiali refrattari, è posizionata al centro della casa, questa è la parte del piano terra dove c'è il fuoco, appunto la parte, diciamo, della camera di combustione, è molto grande, però è anche un punto fondamentale, focale di tutta la casa, e al piano primo abbiamo un satellite, cioè il fumo continua a girare in dei canali realizzati sempre con mattoni refrattari e prima di uscire praticamente dal comignolo rilascia tutto il calore a questi mattoni refrattari che le rilascia poi nel tempo, cioè nelle 24 ore, quindi queste stufe vengono accese una volta al giorno e riscallano nel tempo, in queste 24 ore, fino al giorno dopo che uno riaccenderà nuovamente il fuoco se necessario, riscalleranno tutto l'ambiente, quindi ecco perché è importante prima di tutto l'involucro per rendere il più possibile autosufficiente anche proprio la casa. Allora, questa stufa per esempio l'abbiamo accesa ieri, no, l'abbiamo accesa, scusa, tre giorni fa e l'abbiamo spenta ieri. Apparentemente sembra diciamo quasi un gioco stilistico, sembra un elemento estetico, in realtà non è così, cioè sono stufe che innanzitutto vediamo un po' a livello numerico di che stiamo parlando, stiamo parlando di una casa di quasi 200 metri quadrati che non ha assolutamente nessun tipo di riscaldamento e raffrescamento, quindi riscaldamento è completamente garantito. Noi l'abbiamo fatto la prima accensione ieri e con grande soddisfazione già dalla prima accensione si riusciva a riscaldare le parti più periferiche, i bagni lontani, le stanze meno esposte. Questo perché? Perché queste stufe sono a massa termica, sono apparentemente sovradimensionate, ma in realtà questa grande massa serve a compensare la carenza di massa che hanno queste strutture in legno, soprattutto che sono strutture leggere, molto isolate, molto... Quindi l'aspetto principale è appunto quello di creare una conservazione dell'energia che viene rilasciata. Per chi non lo sapesse, non sono conosciutissime perché le stufe nella progettazione corrente non sono molto conosciute né dai progettisti né dalle imprese che costruiscono case naturali. In realtà, ieri con grande soddisfazione abbiamo visto che diciamo tutta la casa si scalla tranquillamente e soprattutto tutti i materiali della casa lavorano in sinergia con la stufa stessa. Qui da queste immagini vedete un pavimento che è un pavimento in pastellone che è una tecnica diciamo di calce è una tecnica naturale dove viene aumentata appunto la massa termica con un preparato di calce naturale, cuaccio pesto e tanti altri ingredienti naturali che lo fanno quasi sembrare adesso vanno tanto di modi i pavimenti in resina. Ok? Questi sono pavimenti che hanno una resistenza addirittura superiore a quelli della resina e sono però di una bellezza che è sconvolgente, di un calore sconvolgente. È difficile anche fotografare, dalle fotografie non si capisce bene, però quando sono realizzati diciamo le persone che ci vivono sono sempre molto molto soddisfatte. Lo stesso vale per gli intonaci. Prima ho detto una mail, magari risponderemo dopo, però mi ha colpito molto, ma queste case non sono fatte da normali curatori, ci vogliono persone specializzate. La risposta è vera in parte, nel senso questa casa è stata fatta da tre imprese, dalla nostra, un elettricista, un idraulico e un'impresa di muratori generale che ci ha aiutato. Quattro imprese, scusate, quella di base generale è quella che praticamente noi in ogni posto cerchiamo sempre di collaborare e soprattutto insegnare tecniche a loro che magari non conoscono. e appunto sono tutti operari. Io e Francesca non siamo persone specializzate, lo siamo diventati specializzati, ma un giorno non lo eravamo, cioè dipende anche dall'approccio personale. Certo, per arrivare a livelli di un certo tipo ci vuole esperienza, ma come in tutte le cose, come in agricoltura, come in artigianato, come in medicina, come in tanti altri settori. però ecco, il discorso non è un discorso elitario, quello lo fanno solo specialisti, professionisti, non è così, è una questione di attitudine, cioè di predisposizione a questo tipo di costruzioni. Noi abbiamo addirittura collaborato con espertoni, esperti di grammateria che invece avevano il paraocchi e invece le persone diciamo senza esperienza che con la volontà di imparare sono invece riusciti a fare lavori migliori del grande esperto, quindi quello non preclude nulla. Ea, scusa se se riesci ad andare a conclusione mi piacerebbe lasciare cinque minuti per tantissime domande. Io, purtroppo, Francesco, gli argomenti sono tantissimi, vanno anche su altri campi che non riesco a toccare l'emozione forte perché quando vedo la sala yoga e vedo te davanti è molto emozionante vedere che il lavoro che hai fatto in passato diventa vivo, no? Quindi, ah, le conclusioni sono queste, ve le leggo perché l'ho scritta Allora, secondo me l'architettura naturale può portare alla sua sufficienza sicuramente. Ok, l'autosufficienza secondo me non è n'isola felice. Negli anni sessanta e settanta c'erano queste utopie di autosufficienza che hanno tutte fallito per vari motivi che ognuno può trovare anche documentati. L'autosufficienza secondo me può essere in casi particolari in architettura naturale autocostruita. Io e Francesca ne siamo un esempio pratico che ci vorrebbe un'altra 40 minuti per parlarne di quell'esperienza. Allora, per farlo però io quello che mi chiedo molti ci chiedono voglio andare in autosufficienza mi faccio un pannello fotovoltaico mi faccio un cappottino e mi faccio un eolico questo come mi faccio una merenda, no? Allora, non è così in architettura naturale. Cioè, ci sono piuttosto cose che vanno approfondite conosciute analizzate un po' come la permacultura che spende tanto tempo nell'analisi e poi mette in pratica perché l'analisi è fondamentale. Poi, quindi il processo di costruire naturale come dicevo prima è una risposta appropriata e specifica. Per iniziare serve molta autodeterminazione cioè, non puoi dipendere sempre da qualcun altro per fare una cosa. Ti devi anche un po' buttare quindi devi anche avere un po' un senso di sfida non devi entrare nel farsi servire nel senso ci vuole un po' di autodeterminazione che è la determinazione del contadino di cui si parlava ieri. Poi ci vuole si faccio subito il finale l'avevo preparato bene poi secondo me è un'occasione per conoscere noi spesso organizziamo corsi in fattoria o altrove o da noi eccetera sono un modo magari una scintilla per cominciare per poi fare questa autodeterminazione in fattoria generalmente facciamo dei corsi appunto pratici anche di base da dove partire e questo è molto molto importante quindi da lì puoi scattare quella scintilla che ti può portare a diventare un costruttore naturale poi concludo come diceva un grande maestro del novecento che diceva che il miglior amico dell'uomo è l'albero ok l'architettura naturale secondo me parte tutta da lì noi vediamo dietro a Francesco e dietro a noi vediamo che l'albero è molto amico dell'architettura naturale chi lo disse era considerato allora un visionario che era avanti cent'anni ok cent'anni sono passati perché lo disse all'inizio del novecento quindi secondo me è molto importante capire questo che la naturalezza non è un'etichetta una certificazione o un una cosa imposta dalle grandi SPA o dalle grandi aziende viene da da noi io e Francesca spesso l'anno scorso abbiamo plantato 600 querce prese da un da un da alberi secolari di querce intorno a casa nostra l'abbiamo piantata adesso sono alberelli un giorno cresceranno non sono per noi perché sono per il futuro però il messaggio è questo va bene grazie sono stato bravo Francesca va bene tanti saluti e un caro abbraccio aspetta dai ti faccio una domanda al volo e poi comunque visto che veramente c'è tantissimo interesse cercheremo magari l'avevamo detto di organizzare una mezza giornata in fattoria o comunque magari sempre in questo canale in maniera che possiamo sviscerare più argomenti ma una settimana no una giornata una settimana vi chiedo una risposta telegrafica su tre argomenti che sono stati i più richiesti la prima è come riuscite a ottenere i permessi per questo tipo di strutture che non sono previste nei piani regolatori la seconda così siamo ancora più rapidi rispondete l'uno dopo l'altra come reagiscono queste strutture a eventi calamitosi avete già parlato dell'incendio il fatto che non è un problema molti hanno chiesto terremoto umidità la terza i costi no quattro in realtà la terza sono i costi cosa cambia rispetto a una struttura tradizionale e la quarta se comunque queste tecniche possono essere applicate anche a ristrutturazioni 30 secondi di risposta per ogni domanda costissimo partiamo dall'argomento più spinoso sono i costi i costi sono quanto uno vuole spendere nel senso che generalmente queste case sono intorno ai mille mille due mille tre ok proprio base ok il problema è che non è mai così perché o è più o meno è sopra o sotto in base appunto alla personalizzazione al caso specifico al tipo di fondazioni eccetera eccetera al metro quadrato per quanto riguarda invece gli eventi calamitosi siete in buone mani nel senso che dove per esempio Francesco adesso se si venisse un terremoto di quelli devastanti grado 8 9 ok a meno che non si crea una faglia sotto il tempio e si apre in due la montagna con una voragine di 40 metri lì non succede nulla nel senso quelli del paese sotto verranno sicuramente ospitati da Francesco come rifugio per eventi calamitosi anche se venisse un tornado di quelli americani non succede nulla per quanto riguarda l'incendio ne abbiamo parlato prima l'altro telegrafico no nel senso che queste sono case che hanno comunque tutte le autorizzazioni normalissime perché diciamo che la struttura in legno fondazioni fondazioni naturalmente vanno sempre viste sul posto da posto a posto con relazioni geologiche e tutto quindi sono tutte case regolarissime sì però la domanda era quelli non previsti sul tema regolatore se non ho capito male le domande per chi dice non ha la capacità edificatoria ma riusciamo a farci autorizzare una struttura così perché da noi si può fare un strumento armato questa è una falsificazione costante che serpeggia tra i professionisti queste strutture dal punto di vista comunale dal punto di vista regionale quindi sismico sono tutte strutture antisismiche sono tutte strutture che sono conformi ai piani regolatori perché sono in base al progetto cioè il fatto di fare una casa di questo tipo non preclude il fatto che sia regolare o no è anche è oltre la regola nel senso che a livello sismico risponde a tutto infatti tutte le case che ne facciamo sono tutte case con regolare permesso a costruire con regolare diciamo autorizzazione sismica tutti certificazioni abitabilità e tutto quanto cioè la paia o la canapa che sono come coibentante vengono poi naturalmente calcolati come tali nella esatto la relazione energetica e quindi rispondono a tutte le normative insomma non tutti possono essere realizzati ovunque poi c'è la domanda sulla ristrutturazione la ristrutturazione che qui entriamo nel campo della vera medicina applicata la ristrutturazione tu hai un paziente o malato o terminale oppure no e noi facciamo proprio con i nostri interventi di isolamento naturale di impiantistica naturale proprio un vediamo curiamo il paziente c'è un esempio di infattoria che è la la casa in sasso lì è partito un tipo di ristrutturazione poi abbiamo creato un tipo di cura di cura termica di cura diciamo funzionale per le problematiche però va sempre fatto un'analisi del paziente appunto nel senso che i muri vanno analizzati vanno visti non si può applicare un isolante naturale in un intonaco di cemento oppure va prima eliminato diciamo la parte non traspirante a parte del cemento la parte che sono pazienti molto complessi perché molte case addirittura rurali sono lì da cent'anni oppure ci sono case anni settanta che magari è preferibile alla demolizione pur essendo un atto brutale impegnativo ma spesso non c'è niente da fare abbiamo adesso un cliente che ci ha diventa una casa che è totalmente fatta di cemento armato hanno gettato anche i fondelli interni forati le partizioni ed è tutto degradato perché la sta abbandonata per 30 anni ripristinare una cosa del genere è proprio anche anti-ecologico perché ci vorrebbe altro materiale insomma non sano e quindi a volte è meglio che il paziente insomma subisca delle interventi più radicali dipende un po' siamo considerati come un derbasse dei dottori medici d'architettura più che dei grandi archistar o cavolate da rivista Andrea Francesca grazie mille per la vostra condivisione avete ricevuto tantissimi complimenti ricordo che se vi volete contattare Andrea Francesca hanno un sito internet che è filodipaglia.it anche se cercate filodipaglia su google lo trovate tra l'altro collegato anche se non c'entra nulla avremo anche Cutlan che ci parlerà di Masanobo Fukuoka e quindi c'è un collegamento in questa giochi di nomi giochi di nomi e comunque sì cercheremo di organizzare nel breve delle attività con Andrea Francesca e chi è iscritto diciamo al webinar su su zoom sicuramente riceverà poi l'imese per approfondire ulteriormente questi temi comunque Francesco complimenti davvero perché ho sentito degli interventi ieri veramente interessanti proprio e poi è tutto legato insieme molto bello di questi tempi ce ne vedono poche grazie